Essere nata e cresciuta in un ambiente di creativi mi ha permesso fin da subito di concentrarmi e approfondire sempre i miei interessi artistici ed è bellissimo come la mia creatività ad oggi sia diventato poi il mio lavoro. Non c'è un tema principale da dove traggo ispirazione, sicuramente un elemento fondamentale è la ricerca continua ovunque e se dovessi scegliere un posto che mi ispira di più è sicuramente il nostro studio perché è proprio il fulcro da dove poi partono tutte le idee e da dove io, mio padre e mio fratello insieme creiamo, ci confrontiamo e ci ispiriamo a vicenda. La persona di cui apprezzo più il talento è mio padre, lui attraverso un'idea ha portato avanti poi quello che ad oggi è il nostro lavoro e secondo me lui è un chiaro esempio di persona con talento perché si è creato totalmente da solo e sicuramente la grande passione che lui ha sempre messo ha portato poi a influenzarci in una qualche maniera ma senza mai imporcelo nel senso che io e mio fratello abbiamo questo lavoro grazie anche alla passione che lui ci ha sempre messo.